Il 18 luglio, quest'anno facciamo la 45esima edizione della Saga della Trota. È una festa molto importante per il paese, anche perché è una delle sagre più vecchie della Liguria e porta su Arezzo tanta gente. È un momento di divertimento e di allegria per tutti quanti, tutti quelli che vogliamo venire a trovare nel Parco della Pagoda, gli stand gastronomici si aprono alle ore 19.30 e si ci diverte poi con l'orchestra, l'ingresso è libero e vi aspetto numerosi. Fino a notte inoltrata, tra l'altro alla sera ci sarà sicuramente più fresco, dato che il clima è abbastanza caldo di questi periodi, quindi si ci potrà divertire con della buona musica. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i volontari, sia della Proloco che di Rezzo, che delle frazioni di Lavinia di Cenova, che nel corso di questo mese hanno collaborato tutti insieme per la pulizia delle strade provinciali. È stato un momento di aggregazione veramente importante, abbiamo fatto tanta strada, più di 20 km di strada provinciale pulita e vorrei pubblicamente ringraziarli, perché abbiamo dato un servizio sì alla provincia, ma soprattutto al Comune di Rezzo ed è veramente una cosa importante e simpatica. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.